Non è la prima volta che succedono questi atti mostruosi, persone che entrano in luoghi di culto, in questo caso due moschee con 300 persone radunate, così pare, dalle prime ricostruzioni nel giorno della preghiera e compiono una strage e la rivendicano come una strage contro gli immigrati, una strage anti-islamica e anti-immigrati. Sono naturalmente dei gesti estremi, ma non sono purtroppo dei gesti isolati e c'è un elemento in più, c'è il richiamo sui caricatori delle armi a tutte le persone che sono stati protagonisti di episodi simili o gli assassini di persone di colore, gli assassini, i protagonisti di attentati anti-islamici e c'è anche il nome di Luca Traini, il giovane uomo di 29 anni Traini che il 3 febbraio di un anno fa è uscito per le strade di Macerata con la sua pistola, guidando la sua auto e con la mano fuori dal finestrino per colpire le persone di colore, annunciando programmaticamente vado a dare la caccia ai negri, come li chiamava lui. Traini fortunatamente non ha ammazzato nessuno, ma c'è questo richiamo di suprematismo, di internazionalismo suprematista potremmo dire, naturalmente informale, abborracciato, che dimostra come questi episodi quando avvengono abbiano per le persone che sono preda di queste ideologie estreme qualcosa di esemplare, sono dei simboli rovesciati di un mondo dove si pensa di poter uscire in nome del colore della pelle per dare la caccia alle persone che si credono di un'altra razza in qualche modo. Quali sono le analogie con Traini? C'è un'automobile, c'è la musica palla, ci sono le armi, c'è la preparazione, come se fosse un fatto puramente tecnico, il baule dell'auto aperta, in questo caso con i fucili, nel caso di Traini c'era la pistola che portava con sé e poi l'attentato e la rivendicazione. Naturalmente questo ci deve far riflettere, fomentare questo odio nei confronti degli immigrati, legare il problema dell'immigrazione abusivamente al problema della sicurezza, addirittura al problema dell'incolumità dei cittadini. Parlare impropriamente per quanto riguarda le nostre regioni del mondo di fronte a un'emergenza come quella dell'immigrazione di invasione è qualcosa che può eccitare naturalmente le menti più esposte a un contagio di questo tipo. La politica dovrebbe riflettere, dovrebbe esercitare la responsabilità. Naturalmente ognuno è libero di interpretare il fenomeno dell'immigrazione come meglio crede, secondo le proprie convinzioni politiche, però con l'esercizio della responsabilità che è tipico di un governo democratico di un paese. Ecco, altrimenti noi rischiamo di essere davanti a un ripetersi di episodi come questi. Che cosa ha detto l'attentatore della Nuova Zelanda? Ha detto io sono un normale uomo bianco, normale mentre compie un gesto così estremo e così radicale, ma uomo bianco soprattutto. L'uomo che spara ai neri, credendoli di una tribù inferiore, in nome del suo suprematismo, non si accorge di precipitare alla categoria primordiale di uomo bianco, dove contano soltanto la razza, il sangue e il colore della pelle, come negli anni peggiori della storia del nostro continente.